Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole, oggi vedremo insieme un coltello da soccorso della Antonini il CISAR Combat Search and Rescue ragazzi per gli operatori del settore che non vogliono rinunciare alla punta una bellissima drop point su questo coltello che andiamo a vedere insieme Grazie per la visione 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 Grazie per la visione